Torniamo a parlare della tanto discussa società di riscossione Equitalia con questa intervista al deputato leghista Filippo Busini. Il Parlamento mette la morsa ad Equitalia. La Commissione Finanze della Camera ha approvato una mozione votata alla unanimità che impegna il Governo a escludere pignorabilità e ipoteche sulla prima casa, se questa costituisce l'unico bene. Inoltre propone di dilazionare i pagamenti in più rate. Oggi la legge prevede 72 rate estendibili per altri 6 anni e la sospensione dei pagamenti per 6 mesi nel caso di dipitori in difficoltà, che oggi non è prevista. È una risoluzione votata dalla Lega Nord, nella mia persona come capogruppo della Commissione, ma da tutti gli altri capigruppo, quindi all'unanimità presentata al Governo. È una risoluzione che secondo me è un significato importante perché in qualche modo limita i poteri di Equitalia che sappiamo sono in certi momenti vessatori nei confronti del contribuente. Riequilibra, invita il Governo a legiferare in questa direzione e quindi a riequilibrare un po' i poteri di Equitalia che certe volte appunto diventano vessatori perché troppo a sfavore del contribuente. In particolare c'è l'invito fatto dalla Commissione, come ripeto l'unanimità, a rivedere ad esempio i tassi di interesse passivi dovuti dal contribuente in caso di mancato pagamento delle somme dovute come tributi. che ricordo sono dal primo di maggio superiori al 5%, quindi particolarmente pesanti. La mia proposta, la nostra proposta, ma la mia in particolare è quella di ridurre questo tasso di interesse a quello ufficiale di riferimento che è molto più basso. Poi si impegna il Governo sempre a salvaguardare almeno la prima casa o i beni strumentali dell'artigiano, del piccolo imprenditore, nel caso in cui questi siano indispensabili al proseguo della propria attività, altrimenti questo tipo di pignoramenti e di blocco di beni rischiano di far perdere dei beni vitali come la casa, la propria abitazione o per chi lavora, il piccolo artigiano, il piccolo imprenditore, i beni strumentali con cui lavorare ogni giorno e gettarlo nella disperazione più profonda. Speriamo che il Governo recepisca, come ha detto la parola di voler fare, e che questo inter sia abbastanza veloce perché il problema è molto sentito e noi ce ne facciamo portavoci in modo molto deciso.